Musica Buonasera, ben ritrovati a Brutto Village, inizia una nuova stagione televisiva e noi partiamo subito parlando di lavoro è stato calcolato che la percentuale di precarietà nel lavoro in Europa va dal 5 al 15% invece nel sud dell'Italia, Abruzzo compreso, le stime tendono a crescere sensibilmente ed è il settore delle costruzioni dove si registra il maggior numero di lavoratori precari questi dati insieme alle possibili strategie per combattere il precariato sono stati illustrati durante un convegno che si è tenuto all'Università di Teramo e che ha presentato una ricerca condotta in 7 paesi europei il lavoro precario, una piaga sociale e negli ultimi decenni in tutti i paesi europei si è assistito ad un aumento delle situazioni di precarietà lavorativa all'Università di Teramo sono stati resi noti nell'ambito di un convegno a Scienze della Comunicazione i risultati di un progetto internazionale di ricerca che ha coinvolto 7 paesi sulle esperienze di sindacati e associazioni di imprese per contrastare il fenomeno, migliorando diritti e condizioni lavorative quattro sono stati settori esaminati ospedali, imprese di pulizia, costruzioni e agenzie di lavoro la percentuale di precarietà varia da un 5 a un 15% in Europa la media si alza di molto nel sud dell'Italia in cui rientra anche a sorpresa l'Abruzzo maglia nera di lavoratori precari e in generale il settore delle costruzioni il lavoro precario è un problema crescente nella nostra società in tutta l'Europa che fa desequilibrare tutta la società secondo me è una sorta di desigualdanza una sorta di rottura delle strutture sociali è un problema per i giovani per costruire la loro vita, il loro futuro allora secondo me è un problema grosso che dobbiamo proprio risolvere In Olanda come cercate di risolverlo? Ma da noi non è che tutti cercano di risolverlo c'è un po' di dibattito destra-sinistra, è normale su questo però in questo momento il ministro del lavoro che è di sinistra soprattutto vuole combattere l'illegalità c'è tanta migrazione illegale, migranti che lavorano su condizioni proprio terribili e lui fa un bel sforzo per limitare questo tipo di lavoro e questo tipo di situazione poi ci sono anche i sindacati ovviamente che nella contrattazione collettiva ma anche con azioni industriali vogliono soprattutto prima di tutto che il popolo prenda atto che tipi di lavoro esistono che la qualità a volte è proprio bassa e vuole fare visibile questo tipo di lavoro e cominciare il dibattito e come società cosa vogliamo? Vogliamo questo tipo di lavoro nella nostra società moderna europea o diciamo che no, non si può fare? La sua soluzione qual è? Secondo me lo primo che si deve fare dentro tutta l'Europa è definire delle standard minimum del pago ma anche dei tempi di lavoro anche della seguità sociale perché con la mobilità che abbiamo adesso dentro dell'Europa non è che si può soluzionare dentro di un paese questo problema si deve soluzionare a livello anche europeo In questo progetto internazionale di ricerca sul lavoro precario Barsoris che ha coinvolto sette paesi europei l'Italia è stata rappresentata dall'Università degli Studi di Teramo Aspettiamo tutti queste risposte contro il lavoro precario Quello che emerge è che ci sono delle risposte che sono state efficaci cioè che hanno prodotto dei risultati positivi in termini di miglioramento dei diritti delle condizioni di lavoro delle persone che si trovano in situazioni di precarietà e certo quindi pur essendo risposte efficaci non sono ancora sufficienti Per esempio? Per esempio ci sono per esempio tra i lavoratori che hanno rapporti in lo standard ci sono ancora debolezze ci sono aspetti di problematicità per quanto riguarda la retribuzione oppure il non accesso alle prestazioni sociali e appunto le parti sociali sindacate e le imprese stanno cercando di porre rimedio hanno delle iniziative in corso che attenuano un po' queste problematicità non è sono importanti molto importanti e qui lo vogliamo evidenziare e vogliamo sottolineare però non sono sufficienti probabilmente manca anche la risposta della politica ecco per esempio un giovane che ha un lavoro precario ha difficilmente accesso al credito esatto questo è uno dei problemi principali ha difficoltà di accesso al credito ha spesso difficoltà ad accedere a quelle prestazioni del welfare dall'indenità disoccupazione eccetera che a volte sono anche riconosciute però per una serie di ragioni per i criteri per la loro applicazione comunque non sono usufruibili da queste persone e quindi insomma sono ai margini di tutta una serie di prestazioni servizi di benefici che solitamente sono riconosciuti ai lavoratori e sono una situazione di disagio poi precarietà noi l'abbiamo utilizzato come appunto un concetto che indica una situazione di lavoro caratterizzata da una serie di debolezze la retribuzione bassa l'insicurezza sul lavoro appunto la mancanza di protezioni sociali la mancanza di opportunità di formazione di rappresentanza una piaga sì sicuramente una piaga e la rappresenta quando la qualità del lavoro degenera si deteriora ecco che abbiamo queste situazioni di precarietà di vulnerabilità sicuramente queste situazioni possono portare demotivazione possono portare scarsa partecipazione anche come dire una riduzione del nostro senso di cittadini insomma sicuramente qualcosa che dovrebbe essere al centro del dibattito non solo scientifico ma anche politico sociale perfetto la presentosa è un gioiello che parla dell'Abruzzo ormai da secoli realizzato da orafi artisti in filigrana in oro o in argento era ed è rimasto un dono il simbolo di una promessa d'amore e di fedeltà ma quando la tradizione artigiana incontra la nuova tecnologia delle stampanti 3D ecco che prende forma e colore una nuova e moderna presentosa innovativa ma di fascino antico e il pubblico dell'Expo di Milano impazzisce è un gioiello a forma di stella tipicamente abruzzese con uno o due cuori uniti al centro e contornati da spiralette realizzate in filigrana o in cordellina semplice un gioiello che veniva spesso ricevuto dalle giovani donne come promessa d'amore un dono un presente Gabriele D'Annunzio nella sua opera Il trionfo della morte la chiamò appunto presentosa rendendola famosa sul territorio nazionale qual è il valore artistico di questo gioiello La presentosa fa parte del patrimonio dell'artigianato artistico storico italiano è un oggetto importantissimo dal punto di vista della produzione tecnica ideativa valoriale di un oggetto che ha rappresentato per più di tre secoli una delle maggiori espressioni delle arti decorative non solo abruzzesi ma dell'Italia centrale quindi nella presentosa vengono racchiuse tutti i valori artistici non soltanto storici ma anche di continuità con il passato con una tradizione importante e una tradizione anche di di alto valore non solo artistico ma anche valore monetario economico perché regalare una presentosa significava avere un gioiello per tutta la vita e quindi ha una continuità importante ognuno ha la declina secondo le proprie capacità inventiva innovazioni tecniche con un cuore due cuori più filigrana più punte meno punte c'è un valore iconologico anche all'interno della presentosa ma certo è che è l'oggetto rappresentativo più importante della tradizione artigianale e artistica abruzzese la presentosa ad Abruzzo realizzata da sempre in oro o in argento oggi sposa la tecnologia e grazie alle stampanti 3D si rinnova si modernizza diventando coloratissima e di materiale innovativo debutta così all'Expo di Milano ed è subito un successo non è un simulacro questa presentosa di plastica cioè non va a sostituire l'originale non è neanche una copia diventa una trasposizione pop di un oggetto che ha ancora un valore importantissimo nella tradizione dell'arto artigianato che è prodotta a mano e quindi è tutta diversa una dall'altra e che invece la stampante in 3D traduce in un modo diciamo post-industriale volutamente volutamente veloce e anche usegetta la presentosa abruzzese stampata in 3D rappresenta la sintesi della tradizione che incontra l'innovazione un fascino il suo che resta immutato nel tempo l'idea di una installazione di 384 mattonelle dipinte a mano provenienti da 31 città italiane con motivi ispirati al tema dell'Expo 2015 nutrire il pianeta è tutta teramana è il cielo d'Italia un progetto del comitato mostre ceramiche antiche e contemporanee di Teramo in cui sono coinvolti 301 maestri ceramisti italiani proprio in questi giorni il cielo d'Italia è in mostra nei locali di Italy all'Expo di Milano dopo l'esperienza milanese la grande opera tornerà a Teramo per essere esposta stabilmente un cielo di ceramiche preziose provenienti da 31 città italiane sta per partire da Teramo ed arrivare all'Expo di Milano il cielo d'Italia appunto realizzato dal comitato mostre ceramiche antiche e contemporanee di Teramo insieme al comune di Castelli un progetto concepito in occasione dell'esposizione al MIC di Faenza nel 2012 del terzo cielo e il soffitto in maiolica della chiesa di San Donato di Castelli in quell'occasione il comitato teramano insieme all'associazione italiana città della ceramica pensarono di raggruppare in un'unica installazione la tradizione di tutte queste città dopo tre anni eccola realizzata questa grande composizione di 384 mattonelle selezionate provenienti appunto dalle 31 città d'Italia come li avete selezionati questi ceramisti? noi non li abbiamo selezionati tramite l'AICC che è l'associazione italiana città delle ceramiche noi abbiamo invitato tutti i ceramisti italiani tant'è vero che il comitato ha spedito 994 tavelle vergini che gli artisti hanno decorato cotto e rinviato al comitato alla fine sono tornate 444 tavelle e ne abbiamo selezionate qui per questione di spazio 384 di 301 maestri ceramisti i 301 ceramisti che hanno risposto all'invito del comitato mostre ceramiche antiche e contemporanee di Teramo per realizzare il cielo d'Italia hanno dipinto ispirandosi al tema conduttore di Expo 2015 Nutrire il pianeta devo veramente ringraziare tutti i ceramisti che hanno voluto collaborare 301 ceramisti dalla bottega più importante d'Italia di Gatti di Faenza al piccolo ceramista della scuola di Castelli hanno voluto dare ciascuno ha voluto dare un pezzettino della propria cultura a fare il cielo d'Italia che ha un alto valore simbolico sia culturale perché ogni mattonella ogni singola mattonella è espressione della propria città e della propria arte ma anche dal valore simbolico della generosità degli italiani e del fatto di essere uniti in un unico paese nonostante siamo tanti campanili il cielo d'Italia sarà aperto al pubblico a Teramo il prossimo 10 ottobre all'inaugurazione che si terrà nei locali del Parco della Scienza parteciperà anche il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso intanto il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi pensa a dove sistemare definitivamente l'opera ci stiamo lavorando ci stiamo ragionando qualche idea c'è potrebbe anche essere lo stesso ipogeo diciamo uno spazio per questa magnifica opera in questo momento la ospitiamo qui e comunque anche qui è fruibile e poi ragioneremo anzi insieme al comitato per trovare una location definitiva noi ci candidiamo perché sono certo che anche altre città si candideranno al pari di noi per avere questa magnifica opera grazie a tutti grazie a tutti